Ricordo secondo Mopassant. Quanti ricordi giovanili mi si riaffacciano alla memoria sotto l'ariavecarezza del primo sole. Quella è un'età in cui tutto è meraviglioso, allegro, affascinante, inebriante. E come sono gradevoli i ricordi delle primavere passate. Ricordate, vecchi amici, miei fratelli, quegli anni di felicità in cui la vita era gioia e gaiezza. Ricordate le giornate di vagabondaggi intorno a Parigi, la vostra radiosa povertà, le nostre passeggiate nei boschi verdi, le ebbrezze di aria pura, nelle osterie sulla rive della Senna, le nostre avventure amorose, così semplici e deliziose. Voglio raccontare una di quelle avventure. È avvenuta dodici anni fa e mi pare già vecchia, così vecchia che è come se fosse avvenuta all'inizio della mia vita, prima della svolta, quella brutta svolta dalla quale ho improvvisamente scorto la fine del viaggio. Avevo allora venticinque anni ed ero da poco a Parigi. Oggi ero impiegato in un ministero e le domeniche mi sembravano festività meravigliose, cariche di una strabocchevole felicità, anche se non succedeva mai niente di straordinario. Oggi è domenica tutti i giorni, da rimpiango il tempo in cui ne avevo solo una per settimana. Quanto era bello! Avevo sei franchi da spendere. Quel mattino mi svegliai presto, con la sensazione di libertà che gli impiegati conoscono così bene, la sensazione di liberazione, di riposo, di tranquillità, di indipendenza. Spalancai la finestra. Era una giornata splendida. Il cielo azzurro si stendeva sulla città, pieno di sole e di rondini. Mi vestì alla svelta e uscì. Volevo passare una giornata nei boschi, respirare l'aria pura della campagna, perché sono di origine campagnola e sono cresciuto in mezzo all'erba e agli alberi. Parigi si destava, gioiosa, nel tepore e nella luce. Le facciate delle case risplendevano. I canarini delle portinaie si sgolavano nelle gabbie. C'era nelle strade un'allegria che illuminava i volti. Faceva sorridere ogni cosa, come una misteriosa felicità delle creature e delle cose sotto il limpido sole nascente. Raggiunsi la senna per prendere l'irondelle che mi avrebbe portato a Saint-Claude. Quanto mi piaceva aspettare il vaporetto sulla banchina. Mi pareva di dover andare in capo al mondo, verso paesi nuovi e meravigliosi. Lo vedevo comparire quel vaporetto, in fondo in fondo, sotto l'arcata del secondo ponte, minuscolo, col suo pennacchio di fumo, poi più grosso, più grosso, sempre più grosso. Ed ecco che prendeva nella mia fantasia le dimensioni di un piroscafo. Accostava e io salivo. Era già carico di gente, vestita a festa, in abiti vistosi e scargianti, con nastri sfolgoranti e grosse faccione rubizze. Mi mettevo proprio avanti, in piedi, e guardavo fuggire via le banchine, gli alberi, le case, i ponti. E improvvisamente vedevo il grande viadotto di Pont-Saint-Jour, che sbarrava il fiume. Parigi finiva, cominciava la campagna. E dietro la duplice fila di archi, la senna si allargava all'improvviso, come se le avessero ridato spazio e libertà, e diventava di colpo il bel fiume placido, che scorre attraverso le pianure ai piedi delle colline boscose, tra i campi, sfiorando le foreste. Dopo essere passata tra due isole, l'irondelle seguiva la curva di un verde pendio, punteggiato da case bianche. Una voce annunciò, Bam, Don. Poco più oltre, Sèvres, ed ancora più oltre Saint-Clau. Scesi e percorsi velocemente la strada, che attraverso la piccola cittadina conduce al bosco. Mi ero portato una carta dei dintorni di Parigi, per non smarrirmi nei sentieri che si intersecano in ogni direzione, dentro quelle piccole foreste, meta delle passeggiate dei parigini. Appena all'ombra, scelsi l'itinerario che mi parve d'altronde di una assoluta semplicità. Dovevo voltare a destra, poi a sinistra, poi ancora a sinistra, e sarei arrivato a Versal a sera, per l'ora di cena. Camminai pian piano, sotto le foglie nuove, bevendo quell'aria che ha il sapore e il profumo delle gemme e delle linfe. Camminavo piano piano, senza pensare più alle pratiche dell'ufficio, al capo, ai colleghi, e pensando invece alle cose felici, che di certo mi sarebbero capitate, e al vago e ignoto avvenire. Mi tornavano alla mente mille ricordi d'infanzia, risvegliati in me dagli aromi campestri. Camminavo impregnato, tutto avvolto dal profumo incantevole, vivo e palpitante dei boschi, nel tepore del gran sole di giugno. Ogni tanto mi sedevo per osservare, lungo una scarpata, tutte le specie di fiorellini da cui da tempo conoscevo i nomi. Li rivedevo a uno a uno, come se fossero stati gli stessi che vedevo tanto tempo prima al mio paese. Gialli, rossi, violetti, sottili, graziosi, ergentisi su lunghi steli o striscianti sulla terra. Insetti d'ogni colore, d'ogni forma, tozzi, slanciati di forme straordinarie, mostri orridi e minuscoli, s'arrampicavano a fatica sui fili d'erba piegati dal loro peso. Poi dormì, per qualche ora, in un fossato e mi rimisi in cammino fresco e ristorato da quel sonno. Mi apparve davanti uno splendido viale, il cui fogliame, appena un po' rado, lasciava passare sul terreno da ogni parte qualche goccia di sole che illuminava candide margherite. Il viale sembrava senza fine, deserto e calmo. Solitario, un grosso calabrone percorreva il viale, ronzando e fermandosi di tanto in tanto a succhiare un fiore che si curvava sotto di lui e distaccandosene quasi subito per andare a posarsi più lontano. Il suo corpo enorme pareva di velluto bruno striato di giallo, sorretto da due ali trasparenti e smisuratamente piccole. Di un tratto scorsi in fondo al viale due persone, un uomo e una donna, che venivano verso di me. Seccato di essere disturbato nella mia tranquilla passeggiata, stavo per infilarmi nel bosco quando mi parve che mi chiamassero. La donna infatti agitava l'ombrellino e l'uomo, in maniche di camicia, con la giacca sul braccio, alzava l'altro in un gesto di disperazione. Andai loro incontro. Camminavano svelti, molto accesi in volto tutti e due. Lei a passettini affrettati, lui a grosse falcate. Sulle loro facce il malumore e la stanchezza erano evidenti. La donna mi chiese subito «Potete dirci dove ci troviamo?» «Quell'imbecille di mio marito ci ha fatto perdere e pretendeva di conoscere perfettamente la zona!» Risposi con sicurezza «State andando verso Saint-Claude e volgete le spalle a Versailles». La donna lanciò al suo uomo un'occhiata compassionevole e irritata. «Come? Volgiamo le spalle a Versailles? Ma sei proprio lì che vogliamo andare per cena?» «Ci sto andando anch'io, signora!» Lei ripeté per parecchie volte alzando le spalle. «Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio!» Con quel tono di supremo disgusto con cui le donne esprimono la loro esasperazione. Era giovanissima, graziosa, una bruna con una leggerissima peluria sopra il labbro. Il marito sudava e si asciugava la fronte e certo una coppia della piccola borghesia parigina. L'uomo pareva sfinito, spossato e infelice. Mormorò «Ma tesoro sei stata tua!» Lei non lo lasciò nemmeno finire. «E? Io? Adesso è colpa mia! Chi è voluto partire senza informarsi con la scusa che sarebbe riuscito a orientarsi? Chi è? Chi ha voluto svoltare a destra? Su, in cima alla collinetta dicendo che riconosceva la strada. Sono io che sono stata attenta a Casciù?» Non aveva ancora finito di parlare che il marito come colto da un attacco di pazzia lanciò un urlo penetrante, un lungo urlo selvaggio che non si potrebbe scrivere in nessuna lingua ma che somigliava a un «Tiii!» La giovane donna non parve né stupita né colpita e continuò «Insomma, c'è della gente imbecille che pretende sempre di sapere tutto?» «Dì un po', sono io che ho preso l'anno passato il treno di Dieppe invece di quello di Learles?» «Dì, sono stata io?» «Sono io che ho scommesso che il signor per le tournée abitava in Rue de Martyr?» «Ero io che non ho voluto credere che Celeste era una ladra» e continuava con furia con una sorprendente velocità di parola accumulando le accuse più varie più inattese più schiaccianti ispirate da tutte le situazioni della vita familiare rimproverando al marito azioni idee atteggiamenti propositi tentativi sforzi tutta la sua vita dal giorno del matrimonio fino a quel momento lui cercava di fermarla di calmarla e balbettava ma tesoro è inutile davanti al signore stiamo dando spettacolo sono cose che al signore non interessano e volgeva occhi imploranti verso la boscaglia come se volesse sondare la profondità misteriosa e tranquilla per buttarvisi dentro scappare nascondersi a tutti gli sguardi e di tanto in tanto lanciava un nuovo grido un tiiiit prolungato acutissimo credetti che fosse una malattia un tic nervoso la giovane donna rivolgendosi improvvisamente a me e cambiando tono con rapidità eccezionale disse se permettete signore potremmo fare la strada insieme per non perderci di nuovo correndo il rischio di passare la notte nel bosco mi inchinai lei mi prese sotto braccio e iniziò una chiacchierata su mille cose diverse su se stessa sulla vita sulla sua famiglia e sul suo negozietto facevano i guantai e ruide san laser il marito camminava al nostro fianco seguitando a lanciare occhiate da folle nel folto degli alberi e gridando di continuo un poverti alla fine domandai ma perché gridate in quella maniera lui rispose con aria costernata e sgomenta ho perduto il mio povero cane come avete perduto il cane si aveva appena un anno non era mai uscito dalla bottega ho voluto portarlo a fare una passeggiata nei boschi non aveva mai visto né erba né foglie è diventato come matto si è messo a correre abbaiando ed è sparito nella foresta bisogna dire che aveva avuto anche molta paura del treno e forse questo lo ha fatto impazzire l'ho chiamato l'ho chiamato ma non si è più visto morirà di fame là dentro la giovane donna senza voltarsi verso il marito disse se lo avesse tenuto al guinzaglio non sarebbe successo nulla quando uno è cretino come te non tiene un cane e lui mormorò timidamente ma tesoro se tu lei si fermò di colpo e guardandolo negli occhi come se avesse voluto cavargli ricominciò a buttargli in faccia un'infinità di rimproveri carava la sera il velo di nebbia che ricopre la campagna al crepuscolo si stendeva lentamente e un filipo etico fruttuava nell'aria suscitato da quella singolare sensazione di freschezza che riempie i boschi all'avvicinarsi della notte all'improvviso l'uomo si fermò tastandosi febbrilmente il corpo ho paura di lei lo guardava ebbene che c'è ora non mi sono accorto che tenevo la giacca sul braccio e allora ho perduto il portafogli e c'erano tutti i soldi dentro lei cominciò a fremere di rabbia e gridò soffocando di indignazione non ci mancava che questa ma sei proprio un idiota è possibile aver per marito un simile cretino vallo a cercare subito e fai in modo di trovarlo io vado a Versalco il signore non ho proprio voglia di dover dormire nel bosco sì tesoro rispose lui pacatamente e dove vi ritrovo mi avevano raccomandato una trattoria e gliela indicai il marito tornò indietro chino verso terra scrutandola ansiosamente e continuando a gridare a ogni passo sempre più fitta l'ombra lo avvolgeva in fondo al viale presto la sua sagoma scomparve ma sentimmo a lungo il suo lamentoso e sempre più acuto via via che la notte si faceva più buia camminavo con passo allegro nell'anguore del crepuscolo con quella donnina sconosciuta che si appoggiava al mio braccio cercavo inutilmente delle frasi galanti e rimanevo zitto turbato sognante all'improvviso ci trovamo in uno stradone che tagliava il viale a destra in una valletta vidi una città che paese era mai passava un uomo lo chiese a lui rispose bougival rimasi interdetto come bougival siete sicuro certo sono di qui la donnina rideva come una matta le proposi di prendere una carrozza per raggiungere Versailles lei rispose no no mi sto divertendo troppo e poi ho troppa fame dal resto sono tranquilla mio marito se la caverà lui per me è tanto di guadagnato essermelo levato di torno per qualche ora entrambi in una trattoria arriva al fiume ebbe il coraggio di prendere una saletta riservata la donna si prese una solennissima sbornia cantò beve champagne fece tante follie e anche la più grande di tutte quello fu il mio primo adulterio è un po' è un po'